Vai, 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 vai! Dai! Dai! Ti ho tirato? Sono? No, no, piano, piano, lasciamelo a me, ok? Sì, sì. No, no. No. No, no. Ci siete? Sì Come sa? Eh? Bene, bene Non devi uscire dall'altro? No No, no, grazie Sta andando un po' questo l'esterno, Massimo Ah no, così rasca il... Non riuscite a sollevarlo? Eh no, vai no Non la facciamo a sollevare Ok Ma sta raschiando tutto Sta raschiando Aspetta Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Ecco, ecco, non tirare, ce l'ha lui in mano Io non sto tirando Ma è un po' più avanti Poi, però, arriva tutto Marco, hai il carrello dietro Aspetta che c'ho il carrello in mezzo ai piedi Non torno Vai, vai, vai Massimo, vai se tu devi scendere Ma scendi, ora Aspetta No, scendi Tenete fermo Giambi, venite a questa parte No, no, no Salve Dove sta arrivando a tutti i spalli? No, Paolo Ma qui si che è pesante Se ti è messo bene da una parte da là Ce lo fai da solo? Sì Prendo piano Piano Ce l'ho Ce l'ho Ok Lo giriamo A posto Questa Questa